Siamo in una mappa horror su minecraft So benissimo che mi sono mancato Ciao ragazzi Siamo in una mappa spaventosa insieme a Bluefire Spooky Io non vado per primo Spooky Però dobbiamo Dovremo andare io per primo Dovremo prendere quel bottone Dovremo prendere quel bottone Ragazzi dovremo io per primo vado io Va bene Intanto io chiudo il video Per restare in tema Halloween Facciamo questa mappa horror E quindi Prendiamo un play Play Hai attivato il common block Sì Play Fasulla Che bella questa mappa Bella Divertente Ragazzi Perché c'è qualcuno Spendiamo Andiamo a vedere Andiamo a vedere i comandi Oddio 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 creepy più di mille scienziati e teologi il bello è che tutte queste scritte mi appaiono dentro la testa di manuel che bella testa che stanno facendo l'esperimento marco e clark e scompaiono va bene grazie mi sto vibrando è un terremoto sono uscito dalla testa di blu ecco che sta succedendo a me ragazzi mi sono bugato gravity gravity per iniziare forse ci siamo siamo dopo che ci ha trollato chapter one benvenuti tu sg data lo so che sarebbe la nave dove fanno questi esperimenti sugli esseri umani ma io ci sono già io sono ancora dentro i blocchi e sono già dentro però sono tipo in modalità spettatore che posso volare oltre a rinnovare oggi sono già che figo che chiamo la mappa engine oxygen 2 o eccolo salve ragazzi il nostro obiettivo adesso o ragazzi computer cosa io ancora sono l'unico senza spada tieni tieni dai ti do io lo spada anzi non lascia anzi no tu che sei disarmato sei disarmato vai per primo ragazzi guardate quel computer che bello lo vedi manuel guarda ok arrivo laptop e laptop da step mi vedi bello stupendo dobbiamo andare a salvare la principessa vai la principe la principessa grazie a dio sei molto altruista eccoci oddio li senti suoni no oddio paura vedete tutto buio pure voi oggi è bruttissimo blu che sei guarda che faccia guarda che faccia non se l'aspettava ci è rimasto blu quanti blu ok seguimi andiamo andiamo bene c'è qualcosa a destra bugia non vi perdete seguitemi ci sono andiamo andiamo sono ritardato ma non fino a questo vuoi sento il rumore di cavi mandare qui qui oddio guarda questo curitoio che inquietante che voglio paura aiuto ma guarda vado prima gli avanti o ragazzi c'è la cacca che mi esce da giustamente perché no sono soltanto cosa starava odio che non ricchia faremo e monitor allora io premo questo io premo sai vai vai o le guai ma non è uscita la luce e cresci nulla esci le esci le luci esci la senti la voce a figo ma io non sento sento i tuoni find the terminal and check for e che faccio il terminale dobbiamo beh pensa che non funziona ho rotto il terminale mi sa che dobbiamo tornare indietro ma io vedo sì sì io pure tu sì anche io sì sì a me sai che proprio così sì sì mi sa che così però ti sono le luci ma bene andiamo no non dobbiamo tornare indietro dobbiamo aspetta questo lo hai livello a vai andiamo entra grazie mio oddio ci sono ci sono che succede allora un jumpscare solo a me it's like everybody has gone in non riesco ma sono tutti di fretta diciamo che o mio dio delle valigie io o di qua si va big moley no non mi colpite basta no bugia non si va da nessuna parte come se non vediamo dai quando ragazzi qui qui dentro qui dentro sì sicuramente arrivo 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 a porno che tu lo senti flauto sì 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 ma non è un flauto sono le porta la porta la porta la porta il 56 per cento di cosa non dovremmo leggere i cartelli vai 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 masticati chi dopo la porta l'abbiamo lasciato blu ah no blu ci sono avanti vai vantite oh mio dio no ma ho paura no che cazzo ragazzi ho distrutto la torcia dove sei avevo rotto la torcia qua metto la torcia dove stava ok tieni amico avevo rotto la colonna terminal eccolo il terminal allora vai vai ecco qua ritardato mi infiltro ce l'ho fatta ciao zi sempre tutto nero grazie diciamo non è una battuta razzista keycard red requered avanti te serve una chiave rossa per aprire con la porta che vero sas ai navi o qua terminale bornozeus zi ciao a questo questa volta non lo rompo vai vai buttato mi calcio starting system si questo forse ce la stiamo facendo sì sì che devo fare il sistema io vedo che interviano computer game e dmg no ce l'hanno girato ce l'hanno bucchino error no ventano il canale ragazzi che da problemi non posso fare niente senza mio dobbiamo trovare comprare un computer io torno indietro ciao al supermercato ci vuole odio cos'è questo ragazzi ho trovato una cosa no no dobbiamo andare qua no non va ci vuole una chiave rossa ecco ma dove stiamo andando vieni qua ok queste parti l'osservatorio qui a sinistra non lì non lì vieni qua vieni qua dove dov'è la crew me la godo che figata sentite sentite il suono epico finito male ragazzi questo è un gioco finito no è bruttissimo è bruttissimo aiuto ci vuole l'aborto è bloccata va bene grazie andiamo mio dio non finisce più è infinito è un trip mentale ah ecco ok oddio sembra di essere in un sogno sto per morire sto a metà cuori non mi lasciate solo c'è una scala che porta nello scantinato oh porno oh è il coso che ti segna quanto sei alto oddio oh porno zeus hai sentito si stava vomitando merda un cornetto alla nutella ok basta dobbiamo scendere ragazzi aiuto no no se mi appare di nuovo lo zombie mi da fastidio siamo troppo lenti centro del bloccato dovevo trovare cosa non ho letto dovevo trovare il mainframe ci siamo questa è la stanza giusta è la stanza giusta oddio si ah con il controllo che figata oh mio dio queste sono le no vabbè epico bello blu lo vedi tu riesci a vedere qualcosa io vedo tutto bianco ragazzi questo non è un video epico finito male sicuramente si no come è lì in isolation no aspetta no 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 se ne vuoi dove stai andando ti sei perso ah ecco ci seguono avanti ciao zii io capito dietro ti seguono moonwalk moonwalk c'è poca vita muoviti non voglio arrivare che basta basta oddio ecco ragazzi sponati in francia più o meno c'è un fiato non c'è un c***o davvero oh ecco aspetta 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 questa non si apre domai fermo aiuto ragazzi mi sono perso no ragazzi ok fermo aspetta edittiamo l'ambulanza aspetta oh ci sono delle calze sto editando dove dove ho trovato la carta ora io posso ecco la chiave rossa aspetta oh la chiave rossa possiamo andare dietro possiamo tornare indietro no 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 ci muoio sta passando stanno andando via ma se vi uccido che succede lo sentite voi no no non più no non c'è più niente perfetto ok dovremmo metterlo qua no 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 e dobbiamo tornare indietro non ti ricordi che c'era stava scritto red keyword oddio oddio ragazzi ragazzi varnozeus varnozeus sono spawner sono spawner sto morendo aiuto varnozeus varnozeus ragazzi sto morendo un cuore un cuore un cuore ma sono nudi sono nudi sono nudi ragazzi ragazzi mi sa che devo scappare sto morendo rasha rasha io rasha io rasha io rasha io rasha vieni blu vieni blocca no basta ci passano non possono venire sì che possono lasciamo ragazzi lasciamo basta che entriamo loro non possono entrare dove 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 metterla chiave rossa le uccisi lasciamo le uccisi lasciamo tanto un cuore corri ho un cuore ragazzi tanto nelle provate le casse nelle casse c'è la pistac il pollo allora ragazzi si viene a zampare uno davanti siamo morti ve lo dici io vo dico raga io vo dico perché non accendiamo un po' di luci qua ragazzi di qua non vi perdete venite vi prego venite amici allora no no non era questa non era questa il caffè è la stagione del caffè oh mio dio andiamo ok ok eccola eccola la red la red vabbè ah ecco nico ragazzi ragazzi se me ne appare uno davanti sono morto cioè io sono morto che è che c***o volete io sento rumori ma è andato dai la mia sorella la mia sorella lì sente guardiamo lì disable lockdown oddio mainframe eccolo manuel sta qua al mainframe siamo in pericolo mi sa open mainframe ragazzi ma io ho la vita solo io sento i coso no no le sento anch'io anche troppo alti ok non vedo ok ok eh lol io di là stavo andando oxigeno vabbè anche la stessa parte guarda vedi finito male bene andiamo oddio che c***o di frame oddio un computer rotto oh no quanto costava no ragazzi sento dei rumori sento dei rumori di merda ok ragazzi aiuto cosa vai entra i rumori di merda ma prima tu che sei armato è bruttissimo sono armato oh c'è una grata c'è una grata una grata vabbè le condutture ci sono le condutture oh ragazzi venite sta porta cosa è sembra vabbè lavarsi l'area di contaminazione no no io non ci voglio entrare là lavarsi piedi keycard green required non ce l'abbiamo niente non possiamo andare meno male perché c***o meno male no 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 io scappo no ragazzi mi avete lasciato allora dobbiamo andare per uno zeus o sempre dietro mi lasciate è un labirinto dovete andare sì ragazzi qui 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 vai però bene andiamo là dai andiamo là tol aiuto crolla è bruttissimo ah dobbiamo aprire dobbiamo aprire questa ah ok cavolo una scala c'è una scala però prima della scala no andiamo sulla scala da hole se ci stanno gli zombie quanti schiaffi nel cervello quante botte quante oh c'è una porta normale wow aspetta aspetta quella che c'è aspetta ragazzi non c'è andate non c'è andate è pericoloso oddio cos'è sembra lo lupi si è vero oddio ragazzi il sangue what è una trappola ragazzi è una trappola no vedete oddio what ragazzi sono rimasto bloccato vi prego sbloccatemi merda dove sono io ci hanno separato ci hanno separato c'è il sangue c'è il sangue di qua dove ho visto questo io sono cosa abbiamo fatto uno schifo di sangue si ma è bloccato è nero io ne ho fatto un razzista ai codini come hai fatto un razzista non lo so ho avuto paura non dovete più lasciarmi basta io torno dobbiamo più entrare qua ragazzi vedi ragazzi io non c'ho visto c'è la luce adesso no non è vero si io non la vedo me si andiamo scendiamo scendiamo dai basta scendiamo mi so scocciato torniamo indietro di qua di qua di qua si proviamo l'altra strada per forza mi ha fatto prende un colpo mano ebbene no era veramente una oh ci sono altre scale no no spesso spero non siamo un'altra trappola ok venite 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 oddio ma perché io nelle trappole mamma mia sono le porte allora deposit e tutte bloccate va bene quindi devo continuare a passare di prima ma se vabbè io ho il senso dell'entramento tipo un bradipo sono ragazzi non possiamo andare da nessuna parte bloccato ragioniamo 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 ragionare siamo persi mi sa eh ma donna scendiamo oddio sono caduto c'ho mezzo cuore mezzo cuore ti sembra normale eh proviamo a tornare qua 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 noi siamo andati lì ci siamo andati qua allora noi siamo arrivati da questa porta qua andiamo qui a questo punto siamo arrivati però di qua poi sempre dietro mi lasciate porno zeus ci siamo andati si oh mamma mia credo di si si siamo venuti di qua ragazzi di qua siamo venuti c'è computer rotto ok allora vediamo se c'è qualcosa altro dall'altra parte anzi no no ci serveva la chi seguitemi ma da qua dobbiamo tornare indietro da qua invece prima mi ha tippato qua torniamo indietro allora qua mi ha tippato tippato in qualcuno stipe così torniamo indietro qua siamo già stati oddio dove mi ha teletrasportato mi ha teletrasportato in una zona guardate c'è una scala di qua c'è una scala è epico mio dio finito male c'è una porta di qua comunque ci sono delle ceste delle chiavi delle chiavi chiavi prendile tutte tu blu plasma cutter si si prende tutte tu lo fai per noi lo faccio per voi ragazzi c'è del testo qui del testo non mi interessa il testo no blu un'arma che figata ma dovresti farla mezzo cuore dovresti darla mezzo cuore sembra la proboscide però di leggo quello c'è scritto dottor strauss io sono già trovato indietro carta dello psicologo il mio esperimento è così fatto finalmente nessuno sarà in grado di soffrire di soffrire per sempre oddio ragazzi no aiuto aiuto è bruttissimo se mi colpite muoio c'ho mezzo cuore ho attivato un caso non so cos'è guarda guarda che figo cos'è sta roba no è tutta spaziale ho l'armatura ho l'armatura ragazzi mi dead space guarda guardate guarda aspetta l'ultimo ecco qua epico wow io me la metto la spazio mi sa che mi sa che dovevamo guarda la caudì dobbiamo allora si dobbiamo duplicarla ok però il problema adesso è che dovremmo uscire oddio ragazzi sentite il rumore no oddio il rumore ecco ragazzi siamo usciuti dalla sua nave a me è baggato però no ragazzi c'è un rumore brutissimo della sirena dove dobbiamo andare siamo usciuti oddio siamo nello spa no io sono vivo per fortuna ti fate dove mi ha fatto spawnare ragazzi addio aiuto dove sono e dobbiamo rigiugare no io sono vivo e niente ti mando il tp a blu si manda il tp non il tp a possiamo più entrare è bloccato no e io sono uscito dobbiamo scendere cosa dobbiamo fare si mi sa io volo no oddio ce l'ho fatto non sono morto io scappo l'extend è proprio precipitato perchè io volo ragazzi aiuto aiutatemi sono qui sono sceso io non posso scendere ah dobbiamo andare di qua regà ho levitation on perchè devo andare di qua non lo so non è giusto aspetta no ragazzi dobbiamo rifarlo eh forse si dobbiamo mettere la levitation come fa blu venite qua ci sono oddio ce l'hai beh no non ce l'ho riprova oddio ce l'ho ce l'ho ce l'ho allora vai tu ce l'ho ecco no dai sono morto ce l'ho io a caso io ah per forza oh derp devi disattivare e riattivare il pulsante poi a me fa sempre il rumore evitare la levitation entra entra un attimo qui forse deve essere più vicino al pulsante è stato morto di nuovo è stato ucciso nooo aspetta forse perché lo tipo fuori quando non c'è ah adesso stai grazie ce l'hai la tuta devi chiudere la cosa chiudi la porta vai prova adesso no devi premere il tasto prima il tasto non ti ha dato il coso si si me l'ha detto esce ma hai aperto la porta lui muore perché muori derp che ne so vai per uscire fallo tu io no derp vai che cavolo oh sono rimasto chiuso fuori ecco vai per uscire tu sono rimasto chiuso fuori tu mano allontanati io sono rimasto chiuso fuori ragazzi no non sono morto aspetta what? ok io sto morendo da ridere allora ritroviamo ti trolla ti trolla veramente è una pappina del cazzo oh aiuto ok non voglio morire di nuovo ah manu noi leviamoci lui se lo fa da solo teoricamente dovrebbe averla la levitation è meraviglioso però aspetta voi levatevi di mezzo quel film idioti nello spazio uccite andatemene via da qua sono fuori dalla porta non apre non voglio morire rimani là ok io apri no ok io non so più cosa dire ragazzi voi restate lì fuori ci state fuori no andiamo a chiudere le porte aspetta però devi eh no devi entrare devi uscire ah dai ah ti pizzati da me chiudi le porte e ti pizzati da me così siamo tutti è vero aspetta ma perché ci apre non ne ho idea allora chiudiamo le porte stai dentro stai dentro stai dentro manu ti prego stai dentro ok ci sei ci sei ok adesso aspetta provo a rimettermi provo a togliere e rimettere la cosa ti arruino dei pantaloni orgasmo non muore ti arruino dei pantaloni allora secondo me il più vicino ai comma ti arruino dei pantaloni no neanche io ce li ho i pantaloni neanche io me li sono messi si ti servono i pantaloni ma ce li hai i pantaloni fa vedere no no io non ce li ho i pantaloni se primo è non ce li ho i pantaloni sicuro eppure volo si si non ce li ho va bene adesso uscite noi usciamo ok va bene vabbè se muoio ah se lo premo io va ho la fly non ho più la fly oh ce l'ho ce l'ho ho la fly si blu ci siamo ce l'abbiamo fatta io non ce l'ho più dobbiamo dare il pannello di controllo non ce l'ho più io sono morto siamo nello spazio wow ragazzi io non ce l'ho più aspetta vabbè no non farlo se non muoio di nuovo no non voglio per mano per mano tu vai via non voglio morire ce l'hai ce l'hai manu ce l'hai ce l'ho ce l'ho ce l'ho si oh alleluia siamo dei miti ragazzi come c'è se lì dobbiamo andare no dobbiamo andare di qua zi qua dobbiamo andare guarda io apro vai oddio oddio u 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 ecco anche la chiave subito la testa suona ok fermi fermi io muoio e ovviamente ci siamo non riesco a mettere questa riesco devo mettere queste chiave no basta non ho sbagliato ok oddio perchè devi capire io mangio ma non posso mangiare cosa vende contro l'attronauti che non posso mangiare ragazzi non riesco a mettere queste cose quanti problemi vedi quelle sotto guarda questa qua come si muove c'è un'altra cosa qua in fondo a fuoco fuori guarda come si muove questa questa chiave scusa l'ordine qual è? poi passa l'effetto della levitazione poi moriamo no è infinito qua? si cos'è questo? eh ragazzi eh andiamo ci sono le chiavi boh andiamo allora io le chiavi però non riesco a mettere quelle lì sotto aiuto finisce la levitazione allora ragazzi come non riesci a mettere quelle lì sotto? perchè? quelle lì quelle lì quindi quelle lì sotto tu riesci a metterle? dammele eh no come me le dai no io riesco a premere i bottoni lì sotto no non avete capito cosa è successo guardate giù cavolo ragazzi c'è una chiave c'è una chiave finita male oddio no io non ce la faccio più abbiamo anche levitazione non si può scendere per prenderla che serie marrone aiuto sto citando l'ho presa sei citando presa l'ho presa e allora inserisci l'anato che stai citando è bellissimo ragazzi e poi terminiamo i bottoni questo si toglietela per favore ma che sta succedendo non lo so una serie castana una serie trash perché ho sbagliato aspetta no allora mettete tutto dritto quella è la forno di un fallo è tutto dritto adesso premete attiviamo partita è una musichetta di sicuro è di lì perché di qua non si può andare oh ragazzi questa cosa sta c'è una combinazione che mappa adesso dobbiamo chiudere l'airlock si riusciamo senza morire ma io sto ancora io sto ancora volando le porte ah è vero sto video è epico finito male ecco ce l'ho fatta però ho di nuovo no adesso sto volando di nuovo cammino di nuovo ragazzi qua guarda abbiamo visto guardate guardate qua è bisogno di nuovo della levitazione guardate venite qui uscite cioè tornate indietro da me guardate qua in alto vedi dove? qua oh dio si uh è vero cosa dire io non ce l'ho più la levitazione no non c'è niente no non c'è niente c'ho la levitazione di nuovo è stata un'inculata mamma mia che inculata mamma mia io direi che è sufficiente ragazzi ma che serie come hai fatto una serie di una serie del cazzo ecco adesso devo andare al mainframe dove? ma io volo senti nerf sta ancora trovando dei piani no aiuto ragazzi sono tornato nerf ancora dei piani il piano per salvare questa nave boom oh bevete il latte dov'è il latte? lì a me non piace il latte lo faccio prenderlo tieni aiuto 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 hai preso? prendilo bevilo bevilo dai lo prendo io eh ma non c'ho più il latte dentro tieni in blu perfetto adesso dobbiamo andare al mainframe dov'è? no dai system status offline che mappa di migliori il bottone oh mio dio no ragazzi non ce andiamo fuori io fuori non ce l'entro non ci vado più hai paura degli averi che mappa de c***o ma ci andiamo fuori non ci vado più eh derp io siamo bloccati qua in sta cosa di schifo ragazzi questa porta è bloccata non si apre più guarda blu ma gli estremi semi rimedi non è concluso un c***o tutte bloccate qua ah no tranne questa venite abbiamo una nuova strada questa ma sono le cose di prima venite ma ma cosa di prima laboratori vai entra ah dove serviva la green card è vero qui non siamo stati si che siamo stati aspetta aspetta blu sai che cosa devi fare no no che cosa devo fare basta sparare è divertente tieni ragazzi guarda guardate ti da un'arma vieni scusate no ho trovato la green card magicamente dove ah lol ho trovato la green card oddio abbiamo trovato la green card oddio che c***o dove stava eccolo ce l'ho ho capito lo quattro ovvio oddio via oddio che c***o l'ho ucciso ragazzi c'è una botola sopra di noi con gli zoom non posso fare niente di tenere premute è tipo un arco oddio oddio che schifo ragazzi aiuto aiutatemi oddio ragazzi dovete darmi dovete darmi delle cose non c'ho niente tieni le munizioni grazie scherzando ma io non c'ho manco la pistola c'è più no devi vedere le munizioni non ne ho munizioni o forse sì ragazzi diciamo stiamo qua non ne ho munizioni siamo stati bravissimi a trovare la chiave verde adesso andiamo grazie abbiamo raggiunto abbiamo raggiunto il core ragazzi ciao io sto andando tutto stross è stabile oddio ragazzi tutte le visaggio non lo conosce guardate qua correte guardate che schifo che schifo che schifo che schifo guardate sangue sangue forse ci possiamo togliere queste attrezzature di merda quelle che ci faceva si può essere io la tengo ragazzi dove andiamo ecco tutto il strato adesso è quello che ha fatto gli esperimenti bruno strati ottimo vi balla uno strato vi balla andiamo il laboratorio bio che figo c'è un chest oh text log e di text log dice non so tradurre quindi tenete voi da da di adai con super trafano oddio qualcuno ha detto alla francis qualcuno ha detto che è pazzo ma lo amo nessuno conosce cosa che è che vuoi qualcosa ma ho coperto qualcosa incredibilmente bello si il mio pisello alla ricerca del del prossimo indizio alla ricerca del pisello di neve tutto stras ho voglio pornografia no vedi che pornografia si sta guardando pornografia no copyright copyright strike o devono trovare usb drive o ci sono due nuovi blu traduce ragazzi sentite la luce la sentite la voce no attivate questo cliccate questo io ragazzi aiuto cliccate questo qua sul muro vado vado arrivo disattivato l'ho attivato veloce ognuno di voi lo fate per noi lo faccio per voi vabbè leggo i log dottor stross board psychology i can smell you posso adorarti io rompo il computer sono sicuro il mio esperimento non è perfetto ho provato con mister lorenz e ora migliaia di volte più forte intelligente ho scoperto come raggiunge più grosso ragazzi aspetta a tutti i fan di derp vorrei dire una cosa ho scoperto come farmi diventare il pisano di 20 cm piegarlo di altri 20 ma sono sono mani aliene non sono usciamo di qui usciamo di qui è stata una bella lato b lato b ok qui non si fa un shape andiamo dove vai dove allora di qua si potrebbe andare ma io vado di qua andiamo ornozeus il dottore no è buono ah no lo so uscire dottore che non fai non lo so lascialo là ragazzi ho trovato usb drive usb drive l'ho trovata torniamo in giro vai 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 veloce veloce vediamo lo uccido prima il dottore però ma che c'è vuole uccidere il dottore tac ragazzi torniamo usb drive usb un po' no che succede ragazzi sto solo usb drive aiuta ha ucciso un uomo blu chi aiuta dove metto usb drive non era un uomo era un alieno qua qua qui questo bottone no non c'entra niente ecco oddio che c***o che hai fatto l'ho fatto si stanno a salvare in tre si stanno a salvare oddio che paura what ragazzi aiuto dove sei blu dove sei manuel sono qua sono qua aiuto fai da way out dobbiamo andarcene scappare dobbiamo andarcene ma io voi non vi vedo oddio che mal di testa ragazzi non vi vedo più via blu ragazzi aiuto oh perché non mi fa camminare eccolo manuel vieni oddio vieni da vomitare di qua oh blu non mi si siamo dal laboratorio ragazzi ma perché non mi cammina abbiamo slowness saturation non lo so blu devo andarcene via ok dobbiamo andarcene contaminazione dove sto io vieni da me blu corri aiutatemi aiutatemi aprite la porta aiuto mi sa che darpa l'ha trovata aprite la porta non sono scappato aprite la porta aprite la porta non mi lasciate aiuto dove state voi tieni aiuto ragazzi ecco madosche ho perso l'arma però sono qua ho bisogno di aiuto dove siete stiamo volando alla sinistra o alla destra di te da luce dobbiamo uscire di nuovo no raggiungi il più vicino quello per uscire in uno spaccio dobbiamo tornare dobbiamo andare fuori vai tu e manuele ragazzi dobbiamo raggiungere ma perché a me non mi cammina a me non cammina cammina stanto se uccidetemi per favore uccidetemi la cosa uccidetemi ah non ce l'ho più uccidetemi a parte alcuni bug però questa mappa è bella a parte alcuni bug ho tutto un certo in cui dove dobbiamo andare di qua e dovevo tornare dove stavamo prima vieni di qua dove state arrivo e dobbiamo uccidere dal coso da ah di qua vieni apritemi apritemi ok venite di qua andiamo dalla sinistra adesso no non si può andare a sinistra no sei crashato connessione persa aspetta mi dar oddio no 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 c'è il dottore di nuovo me l'avevo ucciso ah ma mi dice connessione persa devi rientrare ma mi dice connessione persa il dottor strauss l'ho ucciso è tornato in vita voglio uccidere no no l'ho già ucciso io ok ha perfettamente senso mi ha dato delle ossa e una freccia e adesso adesso oddio adesso dobbiamo andare qua dove qua dove io c'ho ancora qua come l'avete aperta chifo eh magia avevo le chiavi di scarto della stazione i poteri elettrici ragazzi aiuto che schifo è sempre è sempre in pericolo è sempre in pericolo come ha tipizzato prima che non riuscivo a camminare più che schifo qua facciano gli esperimenti guarda su che schifo ho rotto una chiazza di sangue abbiamo per cui quelle sopra sono ragnatele ragazzi quale sopra sono ragnatele è aggiornata il ciclo aiuto ti ha ucciso da grande mi vendicherò torriamo su no ridatemi la freccia ecco forse dovremmo andare dalla sinistra del detalus di qua ha detto ti ricordi oddio ecco ragazzi qua 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 ci siamo riusciti credo si andiamo andiamo si ora non c'è oh io apro di nuovo io apro oh ragazzi qua io apro di nuovo l'airlock qua eh vai siete pronto io non voglio morire però oh merda manco io che c'è lì dentro ah ah questa questa è la porta che ho rotto io si prima vai mi dì la porta come sta it's fine io attivo eh io attivo il bottone attiva l'airlock basta l'ho attivato oddio aiuto ragazzi dove siete vedo tutto nero vedo tutto nero aiuto aiuto dov'è dov'è si fa in the capitan se capitano di sto cavolo eh ho capito che dobbiamo trovare il capitano ma basta darmi i pugni il capitano uccino è il momento dello story time no basta darmi aiuto sto morendo sto morendo non è che c'è un bottone lì per terra no è tutto nero la stanza ragazzi aiuto aiuto ragazzi guardatemi blu guarda a sinistra sto levitando blu blu guardami dove sei guarda fuori esci fuori a sinistra guarda in alto blu esci fuori ti prego c'è derp che mi passa davanti e non riesci neanche a uscire ti prego esci guardami dove sono guarda sto esci fuori derp muoviti guardami a sinistra in alto in alto ma perché non lo so sto levitando a casa verso l'alto oddio c'è la terra io vado verso la terra oddio anch'io hai visto ragazzi di qua volate dove? da dove sei passato? non lo so aiuto di qua si vola stai citando secondo me vabbè guarda sempre di più nello spazio è un cheat pure tu ti stai volando adesso oh epico guarda dove stai tu io sono sulla terra mi sa che mi sa che the end the end aiuto guardate dove sono io stiamo per raggiungere la terra ma se l'avrei perso anche io anche io non la vedo più più oddio mi ha tipato trasportami perché adesso cos'è appena successo aspetta ragazzi forse forse ti succedo forse ti succedo forse c'era ragione ma dovevamo salire no vai a vedere di qua di qua guarda io sono bravo a glitchare ecco guarda così poi aspetta era chi è che ride che fa ah io sono salito no non vale anch'io anch'io aiuto no questo è un problema adesso come torniamo indietro non god io sciccio ah 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 Grazie a tutti.